5 vantaggi fiscali sconosciuti di una società anonima svizzera La società per azioni svizzera offre molti vantaggi che non troverai mai in altri paesi. Per questo, negli ultimi anni, molte ditte internazionali a conduzione familiare o imprenditori con un mercato globale hanno scelto la Svizzera come domicilio dei loro affari. Questo video ti mostra come beneficiare di questi vantaggi poco conosciuti. Buongiorno, sono Enzo Capputo con SwissBankingLawyers.com e ti parlo da Paradeplatz Zurigo. La tassazione delle società per azioni si basa su un sistema fiscale multicantonale che offre per certe categorie commerciali, speciali, una tassazione forfettaria molto attrattiva e molto interessante. Sono le cosiddette Tax Rulings, con cui infatti si ricorre molto spesso una Tax Ruling e un contratto scritto tra il contribuente e lo Stato con il quale si concorda la tassazione in modo vincolante. Queste Tax Rulings sono confidenziali e non pubbliche. Molto importante. Sono molto più vantaggiose di quanto si pensi comunemente. Questo è il motivo per cui sono molto diffuse e danno molto successo. Tanti investitori internazionali amano molto questi Tax Rulings. Come ottenere i vantaggi che hanno attirato molte società internazionali come Glencore, Corgill, Trafigura, Dow, Chemical, Nestle, Novartis e Google? Tu, creando una Holding, potrai sfruttare appieno i benefici fiscali del Privilegio Holding. Il Privilegio Holding è una terminologia molto importante. Grazie al Privilegio Holding si risparmia veramente tanto, sia sulle imposte sul reddito e sia sulle imposte sul capitale. La Svizzera ha una vasta rete di accordi per evitare la doppia imposizione. Non solo, non solo, non finisce qui. La Svizzera offre anche una serie di accordi bilaterali di protezione degli investimenti con i paesi nei mercati emergenti come Cina, India e Vietnam. Grazie a questi trattati di protezione degli investimenti, con una società per azioni svizzera, il tuo investimento è al sicuro anche nei paesi a rischio, anche nei emerging markets. Le autorità fiscali cantonali sono molto collaborative quando si tratta di approvare le detrazioni relative a spese di viaggio, spese di rappresentanza e svago dei propri clienti. Avendo i diversi cantoni e comuni, diversi livelli di tassazione, è importante trovare i partners giusti. Grazie alla nostra vasta esperienza sul campo, conosciamo bene i cantoni, i comuni e i singoli funzionari adatti per la collaborazione a livello fiscale. Avviando un rapporto d'affari con noi, puoi contare su una tassazione totale fra il 14% e il 20%. Con queste percentuali devi considerare che in Svizzera le detrazioni fiscali hanno una dimensione molto più vasta rispetto agli standard internazionali. Dunque, c'è tanto ancora da risparmiare. Pensaci, come già sai, la Svizzera non è il posto più economico per fondare la sede della tua propria ditta. I nuovi regolamenti internazionali sulla conformità e la tassazione fissati dall'Ocse e dalla Filma, il regolatore svizzero finanziario, richiedono alle banche che ogni azienda che desideri un conto svizzero debba per forza essere operativa e provvista di una certa sostanza. Ci deve essere un po' di sostanza, già dall'inizio. Non si possono più aprire dei conti per società fantasma, tempi passati per società offshore. Oggi si ha bisogno di sostanza, di un minimo di vendite, di un'attività reale che abbia senso economicamente, che faccia senso. Per aprire un conto corrente presso una banca svizzera devono essere adempite tutti questi fattori. Fai come hanno fatto molti altri imprenditori internazionali di successo, priva di te. Inizia il tuo business con noi. Collabora con noi. Collaborare con noi significa lavorare fin da subito con i giusti cantoni, con i giusti comuni, con le giuste banche, con i giusti proprietari e altri leader d'affari ai livelli più alti, più elevati. Prendi subito il tuo cellulare in mano e fai il numero 0041 44 212 4404. Con noi sono solo risparmi sulle tasse, non solo risparmi sulle tasse, ma ti facciamo conoscere la gente giusta, affidabile, gente esperta, già dal primo momento. La nostra rete di rapporti professionali è impressionante. Ti facciamo avere dei vantaggi che altri se li sognano solamente. Chiama subito. Non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Grazie dell'ascolto. Grazie.